Ciao a tutti, sono sempre il Greg e questo è il mio canale in genere horror. Watcher, in questi giorni nelle sale, diretto dall'esordiente Chloe Okuno e interpretato dagli altri da Maika Monroe e la ricordiamo tutti per l'interpretazione nel bellissimo, nello splendido It Follows. Qui interpreta Giulia, la moglie di Francis, Giulia americana. Francis ha la madre rumena e si trasferiscono dagli Stati Uniti a Bucarest per una irrinunciabile offerta di lavoro, una promozione di lavoro ottenuta dal marito Francis. Si trasferiscono in un appartamento, in un condominio. L'appartamento ha una grossa vetrata, una grande vetrata, che dà su il condominio antistante di fronte. Di fronte Giulia che passerà tutta la giornata da sola, straniera in un paese straniero, che non conosce la lingua, mentre il marito lavora parecchie ore, fino a 10-11 ore al giorno, tra l'altro con cene di lavoro. Quindi Giulia avrà la possibilità di visitare in parte la città, ma soprattutto di starsene a casa da sola e di guardare da questa grande vetrata. E vedrà soprattutto l'imbrunire la sera, quando c'è buio, una figura, un uomo, che continua a fissarla dalla finestra in maniera inquietante. Riuscirà anche a scoprire che quell'uomo effettivamente sta guardando lei e l'inquietudine aumenterà anche perché in città gira un assassino che stanno ricercando e che sta mettendo vittime e questa figura inquietante sembra anche seguirla. Lei esce, vede questa persona al supermercato, al cinema, insomma in tutti i posti dove lei di solito va durante la giornata. Gli sviluppi poi saranno i classici del marito che non crederà alle ossessioni e alle paure di lei, all'intervento della polizia che comunque dimostrerà che di fronte non ci sono persone pericolose. Insomma, le solite incomprensioni che sfociano anche nelle incomprensioni di coppia, il film è un thriller psicologico, vorrebbe essere un thriller psicologico che poi virerà con un colpo di scena, cosa che si spera durante il film perché durante tutta la prima parte il film è caratterizzato solo dai momenti della giornata di Giulia, decisamente noiosi, noiosi nel senso che di solito non uso mai il termine lento e noioso per un film, però qui a livello di scrittura, montaggio e regia siamo davanti a un film decisamente noioso, non succede assolutamente nulla, il pathos, la costruzione della tensione, quello che si dovrebbe costruire a livello di caratterizzazione di personaggi, sia della protagonista, il marito, chi gli sta intorno, magari anche i condomini, che non diventano mai qualcosa di veramente inquietante. il condominio, i condomini richiamano, ma anche qui vabbè faccio la citazione ma è irriverente, richiamano, vorrebbero richiamare Rosemary's Baby, probabilmente la regista voleva richiamare Rosemary's Baby, siamo lontanissimi, non c'è nulla a che vedere con Rosemary's Baby a livello di grandiosità, impatto, atmosfera, terrore, tensione, lasciamo perdere, lasciamo veramente perdere. Anche i riferimenti ovvi alla finestra sul cortile, perché ci si affaccia e si vede dall'altra parte, anche lì sono veramente di poca cosa, veramente risibili e di poca cosa. La caratterizzazione, i personaggi, come dicevo, non sono affatto tracciati bene, c'è il solito marito, inebetito dal lavoro, dalle cene con gli amici, dove parla solo in rumeno e l'esclude lei in maniera abbastanza sciocca, lei che dovrebbe essere integrata in un nuovo paese, c'è lei che gira per la città e che ha paura di questo, di quello che sembra essere il maniaco che abita di fronte, l'epirogo finale tra i più scialbi come messa in scena, come costruzione del pathos, tra l'altro telefonatissima, si sa che succederà questo e in questa maniera e succederà questo e in questa maniera, perché sospetti su altri personaggi non ce ne saranno, non lo so se per mancanza, degli autori del film che non sono riusciti a creare sospetti nei condomini, nel marito, chi volete, ma in tutti che non fossero il telefonatissimo assassino che si sa dall'inizio essere lui, si cerca anche di depistare, ma non ci si riesce mai a depistare lo spettatore, non siamo mai depistati, non siamo mai coinvolti da un personaggio, non siamo mai coinvolti dalla crisi della tensione, non siamo mai coinvolti dal mistero e dal cercare di capire cosa avverrà dopo, si spera avvenga qualcosa e quello che avviene è quello che si sa dall'inizio del film con una banalità di costruzione, di non costruzione della tensione, di non costruzione della psicologia dei personaggi, visto che dovrebbe essere un thriller psicologico e non c'è nulla di tutto ciò, insomma alla fine non vorrei andare troppo pesante su questo film che non ha niente di più, anzi ha molto di meno, si era portato a un film simile di casa nostra, Vetro, che già avevo recensito di Domenico Croce e che anche lì aveva una ragazza, anche se il film è diverso, una ragazza chiusa in una stanza che osservava, lì osservava poco al di fuori, ma comunque era all'interno di una stanza, con un'evoluzione di un film, una caratterizzazione dei personaggi, un ritmo, una regia, una fotografia, di tutto diversi, molto più riusciti, ecco, il confronto fra i due è decisamente a favore del nostro film, visto meno probabilmente di questo film che avrà più pubblico nelle sale, quindi semmai piuttosto che citare paragoni riverenti, paragoni che non ci stanno con Rosemary's Baby e con La finestra sul cortile, quindi citando veramente Polanski e Hitchcock dove qui siamo lontanissimi, lontanissimi, qui abbiamo un film che semmai mi ha richiamato per qualche tematica, Vetro, recuperate Vetro, se non l'avete visto al cinema, ho fatto anche la recensione che è un buon film e che è molto più caratterizzato, molto più dettagliato di questo film, che ripeto, non ha nulla, cioè o non si è riusciti a creare nulla o si voleva fare volutamente un film di questo tipo che a me assolutamente non è arrivato, ma andrò anche controcorrente perché in giro ho visto qualche critica positiva, sinceramente di thriller psicologico non c'è nulla, di caratterizzazione dei personaggi non c'è assolutamente niente, di depistaggio, di sospetti non c'è niente, la crescita della tensione non c'è, il film prosegue in maniera lineare senza dare un minimo di tensione, senza dare un minimo di colpo di scena, senza dare un minimo di svolta della narrazione, un qualcosa di inquietante quando lei cerca di vedere se i suoi sospetti siano reali non c'è tensione, anzi ci sono scene abbastanza forzate, chiede aiuto delle persone che danno aiuto e che non vedo perché dovrebbero seguire la sua psicosi nel cercare questo personaggio e insomma c'è veramente poco, ripeto, a me il film non è arrivato, forse sono un po' pesante nella critica ma lo voglio essere perché arrivano film d'importazione, arrivano i soliti film americani che se sono belli a me vanno benissimo, li guardo volentieri. Se è un film che impallidisce a confronto di un nostro piccolo film come Vetro diciamo la critica negativa in me accresce ancora di più è un esordiente va bene io questa regista qui la seguirò nel prossimo film quando farà il prossimo film per carità spero lo faccia decisamente meglio spero abbia una scrittura notevolmente migliore su cui puoi costruire il film e che la regia abbia un qualcosa di originale un qualcosa di suo qualcosa che possa essere riconoscibile che non ci siano delle scialbe imitazioni o citazioni di film troppo alti da poter essere citati che seguono la sua linea e che dia caratterizzazione al film che dia qualcosa dalle musiche dal montaggio dalla regia dalla scrittura appunto i personaggi ecco la fotografia in alcuni casi riesce abbastanza bene insomma deve costruire deve ricostruire una certa bookers magari un po' stereotipata però deve dare la sensazione di una straniera in un paese straniero che non conosce la lingua e che è spaventata anche dalle dalle minime cose anche dal fatto di non conoscere la città però insomma l'ho trovato forzato anche questo quindi mi tengo qualche bel colore qualche momento di fotografia ben riuscita ma sul resto non riesco veramente a trovare nulla di interessante e speriamo che il mese di settembre ci dia film decisamente migliori di questo alla prossima